dal postino alla piaggio al night club la prima travolgente passione lavorai in fabbrica 18 mesi dai 15 a 17 anni e già suonavo mentre i miei genitori con a capo mio fratello si trasferivano da pontedera più o meno per fare i gommisti noi jet di pontedera firmammo un contratto di due mesi con un night club di rosignano marittimo avevamo provato notti e notti per mettere insieme un repertorio musicale di tre quattro ore fatto di lenti classici e lenti di moda che funzionavano in quel periodo avevo 17 anni avevo un futuro come gommista suonavo in un night club dove neanche sarei potuto entrare suonavo il basso acustico e all'occorrenza e anche la batteria con le spazzole per far riposare gli altri soci di avventura e cantavo quattro ore di media guardavo estasiato il mondo che mi circondava il night che ci aveva scrittorati era soft leggero non uno di quelli del pensiero comune bui e tristi le ragazze erano tutte ballerine di un teatro di amaspettacolo che aveva chiuso per l'estate erano quindi di passaggio verso altra avventura come dicevano loro alle due o le tre di notte loro si esibivano in uno spettacolo bellissimo mi sembra di ricordare che fossero un po poco vestite mamma ma dire la verità non ero proprio in grado di valutare che cosa voleva dire poco vestite molto vestite perché figli a 17 anni avevo visto poco poco nulla però insomma la constatazione che io ricordo era quello che erano belle e brave il pomeriggio noi ragazzi provavamo le nostre canzoni mentre le ragazze provavano i balletti come direbbe il saggio cinese da cosa nasce cosa e qualcosa nacque sbocciò un sentimento fra me di una ballerina di 22 anni quindi vecchia per i miei parametri bella come non saprei spiegare della cosa che sbocciò ne ho sentito parlare in fabbrica del bar ma a livello pratico ero piuttosto impreparato ma pronto ad imparare la prima volta dell'incontro ravvicinato del terzo tipo non fu traumatica per sembrare esperto e figo le avevo raccontato di aver avuto altre esperienze con ragazze più grandi di me ma non era vero in parole povere ero travolto dalla passione imparavo in fretta i particolari sono nascosti nella nebbia della memoria del pudore ricordo però che distratto dalle travolgenti vicende in corso non chiamai la mia mamma per 4 o 5 giorni la mamma mary arrivò un pomeriggio mentre noi facevamo le prove delle ragazze ballavano entrò e come sempre aveva la borsina sotto il braccio sinistro mente con il braccio destro e l'indice che puntava all'uscita mi disse col tono che conoscevo bene e ora te torna a casa e subito e di cursa la mia travolgente euforia si ridimensionò violentemente per 4 o 5 giorni appena finito di suonare facevo l'autostop per la stazione di rosignano prendevo il treno che arrivava a campiglia e li aspettavo il treno per piombino trovavo sempre qualche anima gentile che mi portava vicino a casa dormivo qualche ora e una volta sveglia riprendevo il treno da piombino e ritornavo a rosignano marittimo